Mi dispiace dirlo ma il capogruppo di Forza Italia arriva fuori tempo massimo, non so su quale onda è sintonizzato Nicolò, farebbe bene fare una forza autocritica rispetto a quello che non è stato fatto in tantissimi anni al passato, sia dai governi nazionali che dal governo regionale che ha preceduto il mio governo diretto dal suo partito. Vorrei ricordare a Nicolò che l'alta velocità di cui lui parla è il tema sul quale noi stiamo lavorando, abbiamo allocato risorse per definire lo studio dell'alta velocità, 6 milioni di euro, abbiamo già deliberato in direzione dello studio, stiamo interloquendo con il Ministero dei Trasporti, con RFI per costituire la struttura tecnica, che è la commissione tecnica che deve gestire la fase delle gare per lo studio di fattibilità, a conclusione del quale se mai si parte mai si realizzano passi in avanti. E' il primo passo che bisogna fare per realizzare un obiettivo così importante per il quale noi abbiamo proposto al governo e avuto attenzione e ascolto al governo lo studio di fattibilità, perché lo studio di fattibilità non è mai stato messo in campo nei decenni. Quando l'alta velocità si è fermata a Salerno, altri governi regionali non hanno mai messo i piedi nel piatto, hanno declamato, magari chiesto genericamente sulla stampa. Quando si governa e si amministra bisogna assumere atti amministrativi per realizzare risultati. Oliverio non può solo declamare, Oliverio deve produrre azioni di governo e noi, oltre ad aver richiesto al governo l'alta velocità da Salerno a Reggio Calabria, abbiamo assunto provvedimenti, abbiamo messo 6 milioni di euro nella programmazione, che ci consentiranno di operare concretamente in direzione dello studio di fattibilità e lo studio di fattibilità che vede coinvolto anche il Ministero dei Trasporti ed RFI è lo strumento che sarà il viatico alla realizzazione dell'alta velocità. Noi dobbiamo abbandonare questo vezzo, questa pratica del segnare una notizia su un giornale con un commento, con una dichiarazione. Chi governa deve assumere responsabilità attraverso azioni ed atti amministrativi concreti, quello che noi stiamo facendo e naturalmente il nostro obiettivo è quello di realizzare l'alta velocità e il primo passo è quello dello studio. Grazie a tutti.